Mamma mia, mamma mia, mamma mia, che momento, che momento, buonasera a tutti, che momento, buonasera, 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 ma, posso dire, il mio pubblico, il tuo pubblico, ormai ti ritrodo il tuo pubblico, posso dire, mamma che momento, ma, sono un momentaccio, un momentaccio, ah, un momento lì, Cristina d'Avena, Cristina d'Avena, ma ti rendi conto che ti ho portato Cristina d'Avena? Eh, lo so, grazie, 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 perché ci hai portato veramente un pezzo da 90, tu, che lavori per Rai3, che ci porti sempre qualità, cioè, no, io devo stare attento che il livello Rai3, però ogni tanto l'ospite, il regalo ve lo faccio, il regalo ve lo faccio, perché io, io, dovrei essere l'head of content creator, ma io non sono l'head of content creator, io sono l'head of content creator, partite con sta sigla, ragazzi, avete preso scopia, che non è che... Mmm, talento. Cos'è questo odore? È odore di disco di platino, non lo so, mamma incredibile, allora, però, che si deve avere al mondo dei cartoni, è venuto in mente, ora, scusami, lascio un po' la nostalgia, perché i cartoni, cioè, un po' voi mi ricordate dei cartoni, un pochino, ad esempio, Marco, tu questo... No, ascolta, no, ascoltami, questo carisma, questo tuo sguardo... Ci vedo, ci vedo, a me ricordi un po' Jigen. Jigen, Jigen, lo ho fatto. Jigen, sì, hai fatto. L'hai fatto? Sì. Vedi che... ma le movenze, le cose... Gabriele Mainetti. Invece tu, Giorno, mi ricordi un personaggio più, più solare, più popolare, più... A me Peppa Pig, ricordi, almeno... ma nel senso ma quanti soldi ha fatto altro che Jigen allora Cristina Vera mi ha aperto un mondo perché lei ha fatto le sigle ai cartoni che io guardavo Pollon, i Puffi David Lognomo poi uno si droga perché proprio vabbè adesso ti vuoi vedere nelle raiosacchi non solo io un amico guardava da piccolino Olly e Benji infatti non ha avuto molto successo vedeva Olly e Benji e adesso allena una squadra di calcio allenatore un'altra mia amica guardava Mila e Shiro adesso gioca a pallavolo un mio amico che si è visto tutto l'Upen Terzo adesso è assessore al bilancio ragazzi ma che ha fatto carriera sta, capita, capita io non sono niente di tutto questo io sono un però sono diseducativi questi cartoni perché io mi ricordo questa piccola cosa io guardavo Kenny il guerriero sai Kenny il guerriero quello che con le dita faccia ed esplodevano i nemici io quando alle media facevo magari a botte perché eravano ragazzini gli altri arrivavano con le manate i calci eccetera e andavo lì col ditino per cercare me l'ho storta ne ho prese tante adesso io faccio cose un attimino più per divertirmi un po' più aggressivi voi giocate videogiochi? no io no io non gioco videogiochi tu qualche volta? allora io faccio i giochi dove faccio la guerra online sì ammazzo mostri sempre online online mi è meglio faccio un giro a picchiare gente perché ho bisogno di emozioni forti cioè nel senso non dico che io la mia generazione rispetto alla vostra non si impressiona più però cioè non dico che non abbiamo più paura noi però cioè non ci spaventa un po' niente a noi capito voi magari un po' più e noi siamo un po' così capito? hai un po' diciamo un po' più di pelo sullo stomaco sì un pochino che? che? cos'è? allora se dovete fare una roba vostra horror, ululati eccetera per cortesia ditemelo perché io ancora fatico a vedere la strega di Biancaneve io non mangio mele le devo spezzare e mettere nelle torte se no non le non le mangio proprio quindi per cortesia evitate di fare queste cose eh ho capito niente uno ha una fobia una fobia e quelli che insistono bravi complimentoni bravi pensa a te fate a volte le vostre cose horror e melevato pensa a te ma penso no grazie grazie mille pensa a te sta cosa uno c'ha una paura c'ha uno piano tabola c'ha una paura